Scarola. La scarola è un'insalata a foglie piatte, larghe e croccanti. Si può consumare sia cotta che cruda. La parte più intensa del cespo è quella che si mangia cruda, bianca, perché è sottoposta ad un trattamento per non far innescare la fotosintesi clorofilliana che la renderebbe ovviamente verde. Il cespo è legato in modo che le foglie interne non vengano raggiunte dalla luce del sole. Acquistate sempre in cespo, compatti e duri e troverete una scarola assolutamente gradevole.